Benvenuti nel salotto di M.D. Art Piacenza nella rubrica Arte in un minuto. Oggi vi presentiamo un'opera di Letizia Lanzarotti in Arte Lady B. È un'artista neopop che ripropone la pop art in chiave moderna, la popular art, l'arte popolare in chiave moderna. Qui rappresenta Madeline ed è la cosa particolare di quest'opera tutta creata da pezzi di plastica che vengono da o giocattoli, le sorpresine Kinder o comunque plastica in generale che viene sminuzzata e poi incollata con delle resine su tavola. Per cui da lontano voi vedete l'immagine e l'espressione, in questo caso di Madeline Monroe, da vicino invece, se scendiamo di in particolare, vediamo appunto i giocattoli. Questa è la testa di un topolino rovesciata piuttosto che il viso di una Barbie e via discorrendo. Grazie.